E noi andiamo subito dal dottore Brunello Rosa, CEO di Rosa e Rubini, ben ritrovato Tor Rosa. Buongiorno a voi. Grazie a aver accettato il nostro invito. Allora, cosa sta succedendo sui mercati? Soprattutto come reazione alle minute della Fed sono arrivate ieri sera e hanno svelato un volto più falco della Federal Reserve che fino a pochi mesi fa era convinta che l'inflazione sarebbe stata transitoria. Poi già un paio, un mese e mezzo fa ha fatto marcia indietro in quella forse anche storica a modo suo. Incontro al Parlamento americano, al Congresso, quando Jerome Powell ha detto è il momento di mandare in pensione la parola transitoria accanto ad inflazione. Siamo oltre il 6% a Washington, negli Stati Uniti di inflazione. E ieri le minute, peraltro all'unanimità, lasciano intendere che potrebbe esserci un rialzo dei tassi anche prima di quanto inizialmente ipotizzato già a marzo. Cosa succede in questo 2022? Abbiamo visto già il sell-off sul settore tecnologico. Il Nasdaq è stata la peggiore settimana a quella attuale dal febbraio del 2021. Tor Rosa, che succede? Sì, allora lei ha fatto un ottimo sommario della situazione attuale e ovviamente abbiamo una serie di fattori coincidenti in questa fase. Abbiamo le incertezze relative alla variante Omicron che devono ancora essere ampiamente dissipate. C'è la possibilità che questa variante si dimostri positiva da un certo punto di vista, cioè molto trasmissibile ma non molto nociva e quindi vada a rappresentare, un po' l'inizio della fine, se vogliamo, della pandemia. Però è anche vero che il converso, cioè abbiamo adesso milioni di casi positivi nuovi nelle ultime settimane, perché stiamo parlando di tassi di infezione da 100-200 mila al giorno in paesi medi, tipo Regno Unito, Italia, Francia e così via. Quindi chiaramente si va a milioni di nuovi casi a settimana che anche solo statisticamente andranno a incrementare la pressione sui sistemi sanitari nazionali. Questo ovviamente mette i governi in allarme imponendo nuove restrizioni che potrebbero poi rallentare ulteriormente l'attività economica potenzialmente andando a peggiorare lo scenario inflattivo se ci dovessero essere nuove bottlenecks, nuove restrizioni alle catene del valore e delle forniture globali. In questa fase quindi le banche centrali sono molto attente a cosa può accadere all'inflazione che già viaggia su livelli molto elevati, 5% in Europa, 7% più o meno negli Stati Uniti. Ecco che le minute delle banche centrali vanno a mettere un po' di luce su quello che sta avvenendo a livello macroeconomico e in termini di inflazione e chiaramente avvertono che le banche centrali potrebbero dover fare molto di più e molto più rapidamente di quanto supposto fino a questo momento in termini di restringimento della politica monetaria. Si è parlato non solo di possibili rialzi a marzo nelle minute, ma anche e soprattutto che la banca centrale possa iniziare a ridurre lo stock di asset che ha comprato negli ultimi anni immediatamente dopo il primo rialzo. Quindi questa sarebbe una versione estremamente hawkish. L'ultima volta c'era stato un rialzo che è iniziato nel 2014-2015 e un inizio di riduzione del balance sheet intorno al 2018-19 che però poi si è dovuto fermare quando questa riduzione è stata troppo violenta da un certo punto di vista. Qui quasi non avessero imparato la lezione di quella fase storica lì, a cui ho appena fatto riferimento, addirittura dicono che potrebbero iniziare a stringere il balance sheet subito dopo il primo rialzo. Questa sarebbe una versione estremamente hawkish, rialzi a marzo e restrizione del balance sheet. Non credo che si arriverà a questo così rapidamente, anche perché da qui a marzo molto probabilmente la variante Omicron si sarà in qualche modo fatta sentire sull'attività economica, però è evidente che le banche centrali in questa fase sono estremamente hawkish. Siete, tutto questo, lei parlava dell'inflazione, stiamo vedendo una corsa del petrolio davvero senza freni, anche oggi abbiamo l'oro nero a più due punti percentuali, andiamo sul sito di cnbc.com, c'è un calo per quanto riguarda il gas naturale, ma sia il WTI che il Brent abbiamo, il WTI lo dicevamo quasi a un soffio degli 80 dollari al barile, 79,48 in questo momento più 2,09%, il Brent 82,04 più 1,53%, qui si guarda al Kazakistan, ma si guarda anche la situazione in Libia e questo diciamo a pochissimi giorni dall'incontro dell'OPEC Plus, ci deve spaventare questo caro energia a proposito di inflazione, dottor Rosa? L'inflazione è uno dei fattori fondamentali dietro la crescita dell'inflazione degli ultimi mesi, anzi la Banca Centrale Europea nell'ultima press conference di dicembre ha detto che due terzi dell'inflazione che è stata registrata negli ultimi mesi sono dovuti all'aumento dei prezzi energetici, quindi è evidente che va tenuto sotto controllo, l'aumento dei prezzi dell'energia evidentemente deriva dalla riapertura dell'attività economica man mano che la pandemia in qualche modo scema, diciamo così Omicom permettendo, detto questo però ovviamente i prezzi del petrolio sono anche fortemente amministrati, ho appena citato il meeting OPEC Plus che ci sarà a breve ed è del tutto evidente che a seconda di quello che decidono in termini di restrizione e allargamento della produzione questo poi avrà effetti sul prezzo del petrolio, ora è del tutto evidente che non è nessun interesse da parte dei paesi produttori di strozzare l'economia globale con prezzi del petrolio eccessivamente elevati che poi si riflettono in tassi di inflazione così alti che poi inducono le banche centrali ad alzare i tassi di interesse per frenare la corsa dell'inflazione, quindi credo che ci sarà un atteggiamento relativamente moderato da parte dei paesi OPEC Plus, chiaramente tutto questo come abbiamo visto ha un riflesso molto forte sui mercati perché aumento dell'inflazione, aumento atteso dei tassi sono praticamente le due variabili peggiori per quasi un'altra tutte le asset classes, in particolare bonds e equities ma evidentemente anche real estate e i rischi assets come il tech che sta avendo evidentemente una fase particolarmente turbolenta a questo inizio dell'anno. Questo per quanto riguarda il settore tecnologico abbiamo ricordato peggiore settimana per quanto riguarda il Nasdaq questa prima settimana del 2022, non succedeva un calo così marcato dalla fine del febbraio del 2021, una curiosità autora rosa prima di salutarla, cosa sta succedendo anche sul settore delle cripto? Perché andiamo con il sito della cnbc.com vediamo una forte discesa per tutto il comparto cripto, a cominciare dal bitcoin che fino a pochi istanti fa era sotto i 43 mila dollari, adesso di nuovo 42.987, meno 2,62%, ma vediamo ethereum, meno 5,68%, xrp meno 3,17%, litecoin meno 3,59%, il bitcoin cash meno 3,46%, questo sembra ovviamente legato magari anche a quello che sta succedendo in Kazakistan perché ci spiegava la nostra corrispondente dagli Stati Uniti che è un importante paese, non soltanto per il petrolio ma anche per il mining di bitcoin, però soprattutto la vera domanda è che non esistono più degli asset decorrelati, uno penserebbe al bitcoin come un asset magari da eggiare quando c'è il mercato che scende proprio per motivi come quello della Fed più falco, non è più così dottor Rosa? Ma le valutazioni dei crypto asset sono da sempre soggetto anzitutto a enorme volatilità e secondo anche a difficile interpretazione perché evidentemente sono asset che non producono rendimento, che non hanno uso industriale come l'oro, il cui valore non può essere determinato dai modelli tradizionali di discount e cash flow e così via, quindi la valutazione, un fair value dei crypto è da sempre diciamo così un po' la chimera a cui tutti stanno cercando di dare in qualche modo una risposta se è possibile, diciamo che man mano che si va avanti pare che le autorità mondiali inizialmente nei paesi sviluppati ma adesso anche in Cina stiano facendo un crack down molto forte sulle attività in crypto e sul mining, il che evidentemente sta determinando una certa prudenza da parte degli investitori nell'uso di queste criptovalute se e quando sono state utilizzate come asset decorrelate rispetto agli altri qualche soddisfazione può essere venuta in passato ma mi pare molto difficile che questa sia una fase storica in cui questi asset possono essere, le valutazioni di questi asset possono in qualche modo essere totalmente decorrelate rispetto al ciclo economico e anche all'inflazione, ai tassi di interesse quindi mi pare che stiano più che altro seguendo le restrizioni che derivano dalla loro estrazione dal mining, ne avete parlato prima e evidentemente dall'approccio regolatorio, sappiamo per definizione che nel momento in cui una qualunque entità statale decidesse di metterle fuori legge il loro valore andrebbe pesantemente a risentirne, d'altra parte sappiamo che ci sono tante attività in corso per stabilire dei stable coins e ancora di più central bank digital currencies che in prospettiva andranno a sostituire la quasi totalità delle criptovalute attualmente in circolazione. E infatti sappiamo anche il progetto dell'euro digitale da parte della banca centrale europea, anche se i tempi sono piuttosto lunghi. Brunello Rosa, grazie davvero CEO di Rose Rubini, ci ritroviamo presto Tor Rosa qui su Classa CNBC. Molto volentieri, a presto, grazie a voi. Grazie ancora.